Il lavoro sul nido è un lavoro preesistente, questo nido però è stato realizzato per Carrara. Di per sé il lavoro sul nido è stato un po' una necessità di trovare una forma tridimensionale, materica, che andasse al di là della fotografia. Io lavoro principalmente con la fotografia. Nasce proprio da un progetto fotografico sullo studio della migrazione della cicogna. Era un lavoro fatto appositamente per una mostra vicino a Torino, al castello di Racconigi, dove sul castello nidificavano le cicogne. Io sono rimasta affascinata da questa architettura, nell'architettura perché appunto nidificavano sulle guglie del castello. E di lì ho avuto l'opportunità tramite il centro Lipu, che poi sta a fianco del castello, di essere ospitata e studiare. Proprio per me non avevo neanche idea di fare un progetto legato all'arte, era una mia curiosità. Stare lì con loro mi ha veramente aperto un mondo, per cui ho iniziato a vedere come nidificavano, come si muovevano, come cantavano, come si amavano. E ho veramente visto nella costruzione del nido quella che poi, voglio dire, semplicemente è la metafora della casa, perché nido è tutto, nido è tantissime cose. E così pian piano ho cercato di capire come poter realizzare in maniera tridimensionale questa ricerca che avevo fatto attraverso la fotografia. Per caso ho trovato un nido a terra e stavo facendo delle sperimentazioni con la fonderia e decisi di fonderlo. Per cui è un lavoro a cera persa, poi fuso, un nidino grosso così, ovviamente non l'ho portato via dall'albero, l'ho trovato. E da qua è iniziata tutta questa ricerca sulla costruzione del nido. Ovviamente il nido poi mi ha portato a tante considerazioni dettate proprio dalla necessità di... Che cos'è un nido? Sì, una casa, ma una casa è anche un qualcosa che avvolge. Quel qualcosa che ti avvolge è un qualcosa che si prende cura di te. Io ho voluto un po' ribaltarlo e dire io voglio prendermi cura di qualcosa. Credo che sia anche una necessità nella vita, no? Il prendersi cura ovviamente poi anche questo si allarga su più fronti, no? Io l'ho sentito molto come un'esigenza forse nei tempi di oggi. La capacità di fermarsi, di osservare, di darsi il tempo delle cose che si hanno intorno. E qua io l'ho trovata. Per cui Carrara è nata poi l'idea di fare un grande nido. È la prima volta che faccio un nido così grande, di cui una parte, che è quella centrale, è un nido vero, è un nido di un corvo che ho trovato perché stavano potando gli alberi. Su questo ho costruito il mio nido. Questa volta invece di usare l'alluminio ho voluto provare un po' come l'idea di una fotografia. L'ho fermato, ho voluto fermare il tempo. È un nido di resina, l'ho resinato, per cui all'interno c'è la sua anima vera. L'esterno è una resina e poi l'ho fatto zincare per poter rendere questa magia anche un po' specchiante, no? Dove appunto tu ci puoi riflettere. L'idea di portare un nido a Carrara, ti dicevo, è nata proprio dal fatto che quando Luciano mi ha chiamato e sono venuta a fare sopra il luogo, ho visto quest'aula e ho detto, cavoli, a base ottagonale. E ho fatto dei voli pindarici folli. L'ottagono, ho studiato che cos'era il significato dell'ottagono, il numero 8 nella simbologia. Ho proprio pensato, riabitare un luogo, che è quello che poi mi interessa fare attraverso un nido. E così l'ho pensato, l'ho disegnato, l'ho costruito e ho detto, io voglio arrivare lì con un nido e riabitare un luogo. Infatti il titolo, il tempo dei luoghi, nasce proprio da quest'idea che un luogo non è fermo nel tempo, cioè è fermo strutturalmente nel tempo, ma poi in base a chi ci vive, chi ci passa, chi ci abita, ogni tempo il suo tempo. L'immagine, per esempio, in questo caso è nata dopo la costruzione di questo nido. Avevo desiderio di mettere un piccolo puntino fotografico, ne ho sentito davvero l'esigenza. Quell'immagine lì raccoglie davvero tutto il mio lavoro, sia questo che quello precedente, quello che verrà, l'idea proprio di questa mano, quello è un nido vero, tra l'altro un piccolo piccolo nido trovato per strada, fermato nel tempo completamente e l'idea di tenerlo in mano è veramente il concetto della cura, il concetto di un qualcosa che è una piccola casa che porti sempre con te. Bachelard ha scritto La poetica dello spazio, ha già detto tutto lui, anzi io sono molto affascinata dalle sue cose. La cosa bella secondo me dell'abitare un qualcosa, del viverlo e il nido più che mai ha un concetto così forte è bello costruirlo, lo costruisci a tua immagine e somiglianza, lo crei, lo abiti, lo vivi e poi lo abbandoni per poi probabilmente farci ritorno, magari a volte sono più luoghi della mente che trasmigrano nella fisicità di un qualcosa. Grazie a tutti.